Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena uscito per i tipi di carocci dal titolo Marco Polo, storia e mito di un viaggio e di un libro, a cura di Samuela Simeon e di Eugenio Burgio, che abbiamo il grande piacere di avere nostri graditi ospiti e che a 700 anni dalla morte del grande esploratore veneziano ci parleranno di questo viaggio e di questo libro. Io lascio subito quindi la parola a Eugenio Burgio perché cominci a introdurci in questa avventura. Prego a lei. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Intanto direi due parole sull'occasione del libro, che certo è agganciato ai 700 anni, all'anniversario della morte di Marco Polo, però in fondo risponde anche a un'esigenza più interna, sia degli studi relativi a Marco Polo, sia più in generale gli studi sulla letteratura di viaggio e sull'esperienza del viaggio nell'Europa tardo-medievale. Allora, l'esigenza è colmare una lacuna perché di fatto gli studi su Marco Polo e sul libro sono ripartiti in maniera molto, direi molto vigorosa negli ultimi vent'anni, a partire dall'inizio insomma del nuovo millennio e quindi pensavamo fosse opportuno avere un'occasione, un'occasione e studiare. Perché insomma, se volessimo usare una categoria, una specie di idea platonica della filologia poliana, ecco di questa possiamo dire che tra fine otto e novecento è vissuta sostanzialmente per ondate, prima visibili e poi carsiche in qualche modo. Nel senso che la filologia poliana di fatto comincia a metà dell'ottocento con le prime grandi edizioni diciamo di taglio orientalistico, penso a quella di Pottier in Francia, a quella di Henri Jules all'inizio del novecento e poi questa prima fase è culminata con la grande edizione che è un'edizione di taglio sostanzialmente filologico di Luigi Foscolo Benedetto nel 1928. Ora, questa edizione ha avuto un po' il destino che hanno le grandi opere e cioè, sa quella battuta di Eliot sul fatto che i grandi autori fanno il deserto sotto di loro perché sono piante così ombrose che non lasciano al sottobosco la possibilità di crescere. Ecco, l'edizione di Benedetto ha avuto un po' questo destino nel senso che ha fatto il punto in maniera decisiva sulla fisionomia della storia della tradizione manoscritta del testo, ha elaborato un'enorme massa di materiali documentari per arrivare a ricostruire un diagramma sia della composizione che del libro e questo però diciamo in pratica ha in qualche modo, non dico bloccato gli studi, però sicuramente li ha portati a una sorta di uno di quei punti di passaggio che però possono diventare anche dei punti morti. In più l'ipotesi di Benedetto che è un'ipotesi di una redazione a due tappe, una prima fase entro il 1298 che è quella diciamo della vulgata, quella del testo che leggiamo nel manoscritto franco italiano 1116 di Parigi e poi nelle altre edizioni e poi una seconda fase di accrescimento del testo avvenuta in pratica con il ritorno di Marco a Venezia è un'ipotesi che non ha incontrato un grande favore anche perché quando gli studi sono ripresi della seconda fase, cioè negli anni settanta del novecento, in modo particolarmente vigoroso con opere importanti, penso l'edizione ad Elfi della Bertolucci Pizzorusso, poi l'edizione di Menard un po' più recente negli anni, nel primo decennio del 2000, ecco l'attenzione si è concentrata sulle singole redazioni perché appunto la croce ed Elizia della filologia poliana è che questo è un testo che nel giro di pochissimo tempo, sostanzialmente entro il 1230, come data più diciamo più lontana rispetto al testo dell'autore, è esploso in una serie di versioni locali, tutte versioni molto attive in cui diciamo i traduttori erano anche redattori e quindi eliminavano le parti che non interessavano, le riducevano, insomma presentavano un milione, un devisaman du monde tutto loro. Dopo l'edizione della Bertolucci, quindi diciamo c'era uno stimolo a studiare le singole redazioni come oggetti individuali, come oggetti dotati di una storicità propria, degna quindi di essere analizzata in tutti gli aspetti filologici e culturali, mentre l'idea di Benedetto che imponeva in qualche modo l'idea di una ricostruzione del testo risultava in qualche modo come dire estremistica dal punto di vista strettamente filologico e poi inapplicabile dal punto di vista pratico, perché come si fa l'edizione di un testo che di fatto ha un solo testimone nella sua lingua originale? È ovvio che non si può, come dire, intervenire aggiungendo o togliendo ricorrendo a che cosa? Ad altri testi in altre lingue? Insomma il problema filologico o meglio il problema editoriale di come presentare un'eventuale ricostruzione era un problema in qualche misura irrisolvibile. Ora quando noi abbiamo cominciato a occuparci di tutto questo, che è grossomodo nel 2005, è chiaro che abbiamo visto una serie di linee di ricerca che si aprivano. La prima era studiare tutte le redazioni inedite di cui nessuno si era mai occupato e questo è il primo punto. Quindi ricostruire in maniera attendibile una serie di edizioni maneggevoli, cioè praticabili, delle varie versioni e questo era il primo aspetto. E poi l'altro problema era affrontare appunto la logica della ricostruzione, cioè su che base eventualmente avremmo lavorato sulla scia del lavoro di Benedetto, perché è ovvio o si faceva quello o non aveva molto senso fare altro, anche perché il lavoro sulle singole edizioni era proceduto bene, nel senso che per esempio la scuola di Padova di Cino Renzi, di Lorenzo Renzi, aveva pubblicato, ha ottenuto nel giro della fine degli anni dell'ultimo decennio del Novecento, risultati importanti. Penso alle edizioni a cui ha lavorato molto Alvaro Barbieri, del testimone Zelada, latino, e poi la versione invece chiamiamola Lombarda di quella chiamata VA nella logica di Benedetto. Quindi bisognava intanto procedere in quella direzione lì ed è stato il primo ambito. La fortuna è stata che abbiamo trovato dei valenti giovani studiosi che hanno dedicato le loro energie a partire dalla tesi dottorato. Samuela è probabilmente la principessa di questo gruppo, perché è quella che ha in questi anni accumulato in questo ambito. Poi se ne sono aggiunti altri, poi si è creato un gruppo di ricerca che ha coinvolto amici di Padova, amici di Ferrara, penso a Giuseppe Mascherpa che ha lavorato sul Z, sul codice Zelada a Siena, poi Alvaro Barbieri, Elvise Andreose e poi altri ancora, Chiara Concina, Verona e così via. E questo ha permesso per esempio di affrontare uno dei grandi monumenti poliani, e cioè l'edizione di Ramusio, che era un bellissimo banco di prova, da una parte per studiare le dinamiche di costruzione filologica del testo, perché il testo di Ramusio è una sorta di edizio variorum per usare il gergo della tribù, cioè sostanzialmente un testo composito usando più fonti. E poi naturalmente è stato il banco di prova per provare una prima applicazione digitale, perché in fin dei conti gli anni diciamo tra il 2005 e il 2010-11 sono stati anni in cui si è sperimentato molto nell'ambito della filologia digitale, quindi abbiamo prodotto questa edizione che secondo me ha il vantaggio di permettere di studiare contemporaneamente il testo e la sua fisionomia, insomma il laboratorio, per usare una di queste metafore che ai filologi spesso piacciono molto, del testo. Ecco, arrivati a questo punto ci siamo sentiti un po' pronti per affrontare il problema testuale vero e proprio, per cui adesso stiamo lavorando a una nuova edizione digitale, una traduzione critica che ricostruisca la storia della tradizione del milione, ma poi soprattutto siamo arrivati al punto che grazie a nuovi e fortunatissimi innesti, perché tutto questo non sarebbe accaduto se Antonio Montefusco non fosse stato reclutato come docente di letteratura latina medievale a Venezia e se lui non avesse deciso di dedicare molta delle sue energie ai cantieri latini di Marco Polo, ecco non avremmo fatto i passi che abbiamo fatto in questi ultimi anni, da una parte sulla riconsiderazione critica della vita di Marco Polo, in particolare nell'ambito veneziano, e poi dall'altra parte non avremmo cominciato a lavorare come stiamo lavorando sull'altro grande monumento della filologia poliana che è l'edizione latina del dominicano Francesco Pipino, che è per dimensioni oltre 60 codici sicuramente il vero, come dire, osso da sgranocchiare della filologia poliana e qui abbiamo avuto anche ancora una volta una notevole fortuna perché un giovane dottorando, Carlo Giovanni Calloni, non solo si è dimostrato disponibile a un lavoro così oneroso, ma soprattutto ne sta ricavando risultati realmente importanti, in cui finora nessuno si era potuto giovare. Quindi quando siamo arrivati grosso modo diciamo al 22, l'idea è stata benissimo, è il momento forse di tirare un po' le fila di tutti questi ragionamenti e proporre una prospettiva nuova di studio su Marco Polo. In effetti il libro è dedicato a Marco Polo, però il sottotitolo parla dell'uomo e del libro, perché al centro del libro c'è quello che è il nodo veramente paradossale dell'esperienza poliana e cioè che senza il libro, il De Vizamandu Mond, noi non avremmo il personaggio di Marco Polo viaggiatore. Marco Polo non ha autonomia documentaria fuori del libro, tant'è vero che i vuoti del libro sono stati colmati poi dalla leggenda, cioè dalla creazione di un mito, quello di Marco Polo, che ha divorato il libro, per cui tutti parlano di Marco Polo senza mai parlare del libro, ovviamente, ed è diventato il prototipo del viaggiatore, come dire, del viaggiatore veneziano a partire sostanzialmente dalla museo in poi. Questo giustifica la struttura in quattro parti del libro, una parte biografica iniziale, una parte strettamente filologica la seconda, una legata ai contenuti extra, potremmo dire extralinguistici, extratestuali del libro e una quarta parte che ritorna sul mito di Marco Polo, però nella sua chiave, come dire, più fortemente pop dell'età moderna, quindi sostanzialmente dal 600 fino agli ultimi videogiochi, che sono, tra l'altro, e questa è la cosa che mi piace ricordare, tutti direttamente testati da chi ha scritto il saggio, quindi abbiamo quantomeno per una parte dei 18 collaboratori, 20 collaboratori, compresi noi due, certo, 20 collaboratori, abbiamo, come dire, una esperienza diretta di quello di cui parliamo, il che credo, se vogliamo proprio fare un po' di pubblicità di bassissimo livello, sicuramente darebbe soddisfazione a Marco Polo, che in fondo è sempre stato un grande celebratore dell'esperienza diretta, del vedere coi suoi occhi, dell'empiria, insomma. Quindi il libro mette insieme specialisti, oso dire, di alto livello nei vari aspetti che abbiamo deciso di trattare, perché il libro si allarga anche ai problemi cartografici, all'economia del mondo orientale, all'esperienza della lettura di Marco da parte dei gesuiti che a partire da fine, dall'inizio del Seicento tornano in Cina e così via. Quindi, insomma, uno spettro largo di temi, però, diciamo, da un quadro che secondo me è aggiornato. D'altra parte, quando Samuela e io abbiamo pensato all'indice del volume, l'ambizione era di fare un libro, come dicono i francesi, The Reference, oppure A Reference Book, come dicono gli anglosassoni, cioè un libro che uno deve consultare se vuole cominciare a sapere qualcosa di, come dire, davvero assodato sulle ultime tendenze degli studi poliani, insomma. Ecco, questo direi è il quadro generale, però appunto adesso si innesta a Samuela. Vai, Samuela? Sì, l'idea per l'appunto è quella di fornire agli studenti e a chi è interessato un quadro di riferimento che sia soprattutto aggiornato. In effetti una delle domande a cui vuole rispondere il libro è quale milione leggere, che è uno dei problemi che ci viene posto più spesso dal grande pubblico. E attraverso questi saggi noi non diciamo quale milione leggere, ma spieghiamo perché ci sono così tanti milioni, visto che il milione è un testo che è vissuto soprattutto nella traduzione. Abbiamo anche inserito delle appendici, per esempio c'è un censimento dei codici noti, sono 144, quindi un buon numero, e li abbiamo poi divisi per famiglie in base alla lingua, in modo che anche in questo caso il lettore che si trova in libreria e trova un milione franco italiano, un milione francese, uno toscano, possa capire il perché di questa situazione e che cosa sta leggendo. E poi ci sono effettivamente dei saggi che si occupano delle immagini, del Marco Polo in immagini, quindi sì l'uso di Marco Polo nei mappamondi, nella cartografia, nella geografia, ma anche i bellissimi codici minati che sono presenti in realtà solamente in una famiglia di codici, che è quella francese, che è stata molto letta dagli aristocratici francesi, quindi da re, regine e grandi aristocrazie. Abbiamo poi pensato a dei saggi di contesto generale che spieghino quindi l'Europa nel 1200 e anche il tipo di scambi con l'Oriente che in questo periodo diventa più fitto. C'è anche un saggio secondo me molto bello e molto importante di uno studioso tedesco, Hans Ulrich Vogel, che ragiona sulla Cina e sull'economia cinese e mostra veramente quella che era la sproporzione, l'estrema complessità del mondo cinese quando Marco Polo lo visita. Abbiamo poi dei saggi sullo stato degli studi in Cina e in Mongolia su Marco Polo, che secondo me dà dei risultati abbastanza sorprendenti, nel senso che per esempio in Mongolia non è studiato moltissimo se non da tempi recenti, sebbene di fatto sia una delle uniche fonti scritte sulla storia medievale dei Mongoli, mentre invece la Cina ha una tradizione molto più complessa, però tutto sommato recente perché rimonta comunque al 1800. E poi per l'appunto ci sono tutti questi saggi sui viaggiatori moderni, sui viaggiatori gesuiti, come diceva Eugenio, ma anche su quelli inglesi che nel 1800 e all'inizio del 900 partono sulle orme di Marco Polo. E poi ovviamente c'è anche un saggio sullo stichello da Pisa, che è un po' il grande dimenticato e la vittima, la prima vittima del successo del milione, visto che viene di fatto ucciso in gran parte delle redazioni. Sì, che significa sostanzialmente che lui sparisce, cioè il suo nome non viene più riportato e quindi è come se Marco avesse fatto tutto, insomma fosse andato in Cina, avesse preso gli appunti, avesse redatto il suo libro e lo avesse anche messo in circolazione. Poi secondo me è anche molto interessante, ci sono dei saggi che sono di carattere linguistico, però con un taglio generale. Uno si occupa della fortuna latina del milione, perché più della metà dei manoscritti che abbiamo sono in latino e invece ce n'è un altro che si occupa dei malintesi della traduzione e quindi di come da una famiglia all'altra di manoscritti, cambiando la lingua, ci siano errori, fraintendimenti che derivano però da problemi di traduzione all'interno della trasfila di coppia. Sì, diciamo che l'obiettivo del libro è riproporre, rimettere al centro attraverso il libro quella che è la grande questione che in fondo emerge dal testo se uno lo legge per intero e cioè il fatto che la conoscenza è innanzitutto una questione di traduzione, di traduzione dell'esperienza diretta in testualità, nel senso che uno deve trasformare ciò che prova, ciò che vede, ciò che sperimenta in una descrizione, in un testo scritto e poi soprattutto è circolazione di lingua in lingua, con tutti i, come dire, i meccanismi di negoziato, di compromesso al limite appunto dell'equivoco e quindi dell'errore che questo tipo di operazione prevede. Quindi diciamo che potremmo immaginare il testo del milione come una specie di quelle costruzioni fatte di tubi innocenti in cui tutte le parti, l'esperienza di Marco, la sua descrizione, la lettura delle persone attraverso i codici, attraverso le traduzioni, si tengono insieme e poi però prendono delle forme anche diversificate a seconda del punto di vista, della cultura, dell'aspetto linguistico di chi sta appunto recependo il testo, di chi lo sta leggendo. Quindi paradossalmente è un libro che apparentemente può sembrare molto noioso perché è fondamentalmente un'enumerazione descrittiva di luoghi che hanno un fascino esotico spesso nel loro nome ma che poi non rivelano niente di particolarmente, come dire, attraente o eccitante, in realtà diventa una sorta di vera e propria riflessione sulla diversità, sulle diversità, ecco, della specie umana nelle varie parti del mondo. Ed può essere anche uno strumento, secondo me, abbastanza istruttivo sul problema dei rapporti di forza, e cioè sul fatto che quello che scopre Marco fondamentalmente, che i suoi contemporanei non sapevano, è che l'Asia non è un territorio onirico riempito di elementi strani, di mostri, di leggende, persino c'è dentro il paradiso terrestre. No, l'Asia è un mondo abitato da esseri esattamente come gli occidentali che posseggono lingue, culture, tradizioni religiosi, consuetudini di vita quotidiana e in molti casi sono più ricchi, più potenti di quanto siano gli occidentali. Diciamo che il De Vizamandiu Mond è innanzitutto un notevolissimo bagno di realismo, ovviamente dentro la logica di una scoperta improvvisa, quindi con tutto il lato fascinoso di qualcosa che giunge totalmente inaspettato al lettore del testo. Già all'epoca, voglio dire, le prime testimonianze di chi dice ma chissà se è vero quello che racconta, sono in realtà molto vicine alla stesura del De Vizamandiu Mond, sono di 50-100 anni dopo, quindi il problema se davvero Marco il viaggio l'ha fatto, se davvero l'Asia è come dice lui e così via, viene posto assai precocemente. Però appunto dentro questa logica così un po' eccentrica della meraviglia, ci sta poi il fatto concreto che al centro di questo libro c'è un imperatore che è il più potente del mondo, che è una persona dotata di intelligenza e di cultura che governa soprattutto una macchina amministrativa e militare, quella dell'impero Yuan, che non ha uguali in Occidente, d'accordo? E quindi c'è questo tipo di riflessione che viene fatta, così come io trovo molto affascinante il fatto che Marco si preoccupi di indicare che tutto questo lo ha conosciuto attraverso un apprendimento linguistico. Cioè quando Marco si dà un merito all'inizio del testo, questo merito ovviamente è un merito che lo rende autorevole, perché il problema di Marco è perché dovete leggere questo libro se non si fonda su altri libri, ma si fonda su quello che ho visto io. Cioè quella è la ragione per cui dovreste credermi, perché io suono come attendibile. E lui dice io sono attendibile perché sono andato lì, ho imparato le lingue del luogo, ho fatto un lavoro di, come dire, ambasciatore, di messo, di inviato speciale di questo imperatore. Con questo mi sono acquistato la sua attendibilità, ma l'ho fatto imparando le lingue del luogo, quindi facendo un'esperienza diretta. Poi ovviamente questo ha dei limiti perché si discute ancora in maniera sfinente se Marco sapesse o no un po' di cinese e la risposta di quasi tutti è no, perché gli bastava in fin dei conti il persiano come lingua internazionale e il mongolo come lingua dei vincitori, d'accordo, dei dominanti. Però, voglio dire, lo si può mettere per esempio a confronto con un altro libro bellissimo di cui Paolo Chiesa ha curato un'edizione ineccepibile che è l'Itinerarium di Guglielmo di Rubruck. Il libro di Rubruck è bellissimo, ha delle pagine tra l'altro anche molto vicine alla nostra sensibilità contemporanea per quanto riguarda il viaggio. Però, per esempio, Rubruck è tormentato dal fatto che lui conosce poco o niente delle lingue del posto e deve affidarsi sempre degli interpreti. E questa cosa lo sfinisce, lo infastidisce in modo indicibile perché lui si rende conto che tutto quello che viene a sapere è sempre filtrato dalla testimonianza altrui. Non è mai la sua esperienza diretta, cioè se lui sbaglia, non sbaglia in proprio, sbaglia sempre attraverso un altro. E questa cosa, appunto, lo indispone, gli fa cogliere i limiti della sua esperienza. E questo, ripeto, è un elemento, cioè in tempi come i nostri, in cui, voglio dire, uno può decidere dove viaggiare sulla base del costo dell'aereo e quindi andare nei posti più, diciamo, più lontani della sua esperienza. Passarci un weekend e tornare a casa, senza di fatto aver mai avuto nessun tipo di contatto linguistico con gli abitanti del luogo, è veramente un elemento di grande riflessione o di grande possibilità di meditazione sulla natura del viaggio, sull'esperienza dell'alterità, sulla capacità di mediare con l'esperienza altrui, eccetera, eccetera. Ecco, noi potremmo andare avanti all'infinito. Non ho dubbi, ma per questo io ascoltavo in rigoroso silenzio, perché prima cosa mi viene voglia di andare subito a comprare il libro, perché chiaramente... E questa è una cosa positiva per l'editore, naturalmente. Certo, ma anche per gli autori. Naturalmente, perché insomma, se il libro gira, sarà una cosa positiva, insomma. E quindi, come sempre, il mio compito è quello di ricordarne il titolo e la casa editrice e il volume si intitola Marco Polo, storia e mito di un viaggio e di un libro, appena pubblicato da Carocci, a cura di Samuela Simion e di Eugenio Burgio, che abbiamo avuto il piacere di avere i nostri graditi ospiti, che ce ne hanno così amorevolmente parlato, perché si capisce che è una vostra creatura questo libro, lo avete generato voi e lo amate tanto. E ovviamente nell'anno del settecentesimo anniversario della morte giunge proprio, come dire, a fagiolo per mettere un punto chiaro su tutta una serie di problematiche che tutta la letteratura relativa al grande viaggiatore e continuo a porre. Io vi ringrazio davvero tanto. Posso aggiungere un'ultima osservazione, prima che lei chiuda? Perché è una cosa a cui tengo molto, dall'esperienza di questo ventennio, insomma, di lavoro. Ecco, per me, che ho cominciato questo lavoro, grazie, io ho cominciato questo lavoro in maniera del tutto casuale. Si discute sempre sul fatto che ci vuole molta passione, che bisogna scegliere i propri oggetti. Ecco, non è il caso di cui stiamo parlando. A un certo punto io avevo diciamo terminato, avevo una serie di argomenti su cui volevo lavorare, però questo era veramente estraneo al mio orizzonte di ricercatore. E mi sono occupato di Marco Polo per delle ragioni puramente casuali e occasionali. Un collega che stimo molto e che mi piace ricordare, che è Francesco Bruni, mi ha chiesto di tenere una lezione per un corso di italianisti che era dedicato all'autobiografia alla Fondazione Cini qui a Venezia. E poi il mio maestro, Mario Eusebi, mi ha detto, ma senti, qui tutti si occupano di Marco Polo tranne i veneziani. Non è possibile che noi che lavoriamo a Venezia non ci occupiamo di questo testo e di questo libro. E quindi ho cominciato a occuparmi, ma un po' sulla scia di questa indicazione dicendo tutto sommato perché no. Ecco, quello che vorrei dire è che certe volte è stata, devo dire, una grande esperienza e durerà ancora per un po', perché dobbiamo finire l'edizione digitale e quindi diciamo altri due, tre anni almeno avremo di che lavorare e poi ci saranno altre cose da fare. E però, come dire, seguire delle indicazioni anche casuali, imbattersi in qualcosa senza averci pensato su troppo, senza aver fatto una scelta motivata. Sa come diceva Napoleone, qual è la tua strategia? Lui diceva on s'engage et puis s'envoie, no? Intanto si va dentro la battaglia e poi si vede. Ecco, noi ci siamo infilati in questa storia un po' in questo modo e cioè ci siamo buttati e poi si è visto come andava a finire. Non c'erano grandi rischi ovviamente, non è che voglio costruire un monumento alla serendipiti degli studiosi, però secondo me questa storia racconta anche che si può affrontare casualmente un tema e questo tema alla fine risulta realmente appassionante interessante. Ecco, questa è una cosa che mi piace far passare perché tutto sommato è una delle cose migliori che mi è capitata nella vita di studioso, anche se voglio dire ho studiato altre cose anche molto belle e appassionanti. E però esserci arrivato per caso, aver dedicato un pezzo così lungo, aver poi, come dire, lavorato in collaborazione con gente molto più giovane di me in questo ambito, anno dopo anno, beh è stata un'occasione in qualche modo per mantenere anche molto fresca la testa che tutto sommato non è una cosa così irrilevante, no? Eh no, direi proprio di no. Direi che è una cosa importante. Quindi io vi rinnovo i miei ringraziamenti e ricordo a tutti gli utenti d'Italia Medievale di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato finora e rinnovo davvero tanto i miei ringraziamenti ai due interrenuti. Grazie ancora. Grazie a lei, è stato un bel piacere. Grazie a lei, è stato un bel piacere. Grazie a tutti.